Grazie a tutti Come tutti sapete stiamo affrontando in questo tempo un ciclo di Catechesi sul dono della Divina Volontà, sulla base degli iscritti di Luisa Piccarreta, facciamo sempre un pochino di sintesi, siamo in una sezione della Catechesi che ci fa involta a farci comprendere la seconda attualizzazione del Fiat Divino, cioè le attualizzazioni del Fiat Divino sono le manifestazioni nella storia della Divina Volontà, tecnicamente noto in questi scritti come il Fiat Redimente. E dopo aver visto l'azione e la funzione all'interno del Fiat Redimente della Divina Maria, che di fatto fu lo strumento per la manifestazione del secondo Fiat Supremo, con il Fiat Michi secondo un verbo untum, stiamo cercando ora di vedere come il verbo incarnato, che è evidentemente l'attore principale della redenzione, abbia vissuto e manifestato il Fiat Divino. Siamo in una sezione degli iscritti molto importante, che ci ha occupato tutta la scorsa puntata e che necessita ancora oggi della nostra attenzione, perché non abbiamo finito l'analisi dettagliata di questo scritto fondamentalissimo per comprendere il dono della Divina Volontà, dove Gesù appunto spiega come nel corso della storia, si è attraverso delle scansioni temporali, bimillenarie, così è manifestata la volontà salvifica di Dio e quindi i vari Fiat, compreso il Fiat Redimente, che è appunto quello avvenuto 2000A, e il cosiddetto Fiat Santificante, che poi si occuperà tutta la terza parte di questo ciclo di Catechesi, che è appunto quello che riguarda noi, cioè che è la manifestazione del Fiat regnante nelle anime, quindi il dono della Divina Volontà, che si esprime tecnicamente nella formula insegnata da Gesù nel Padre Nostro, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Quindi questa preghiera che Gesù ha insegnato mentre era sulla terra e che tutti hanno cominciato a recitare con fede e con amore, anzitutto affinché le volontà umane imparassero a fare ed uniformarsi a quella divina, il che è già molto, attende il pieno compimento nel regno del Fiat Supremo, cioè quando la Divina Volontà regna nell'anima e diventa una sola cosa con l'anima stessa, quindi si vive non già semplicemente in uno stato di obbedienza a Dio, ma in uno stato di fusione con la sua volontà, quindi fusione abituale, ininterrotta, quindi che coinvolge tutto l'agire dell'uomo. E non soltanto, come vedremo a suo tempo, gli atti umani in senso stretto, cioè quegli atti liberi e volontari, che sono la manifestazione dell'esercizio della nostra libertà, che quindi possono essere leciti o illeciti, buoni o cattivi, meritori o meno, ma come vedremo anche gli atti inconsapevoli, anche gli atti indifferenti, gli atti inconsci, eccetera. Quindi a suo tempo avremo modo di approfondire questi punti. Ora, siamo arrivati la volta scorsa a rileggere, quindi a commentare, fino a poco più della metà di questo scritto fondamentale, vedendo questa rinnovazione dell'umanità bimillenarie che Gesù ha compiuto, che la Divina Volontà ha compiuto nel corso della storia, e infine Gesù che annuncia la manifestazione e la rivelazione del dono della linea volontà, ricordando che chi sarebbe stato maldisposto a questo dono non avrebbe capito, usate queste parole, nemmeno un'acca di queste altissime verità. Tuttavia, cioè nonostante, quindi nonostante la durezza dell'uomo, Gesù non si sarebbe dato per vinto, ma avrebbe trovato il modo, manifestando ora in un modo, ora in un altro, ora questa, ora quell'altra verità del suo volere, di far comprendere questo immenso dono, perché nulla ha a cuore l'Altissimo, a quanto Gesù rivela in questi scritti, quanto la capacità di iniziare a vivere nel regno, si dice tecnicamente anche quest'altra espressione, del Fiat Supremo, quindi accogliendo questo dono. Ora riprendiamo la lettura commentata, da dove ci siamo fermati, e ricomincia quindi la citazione, ricordo che l'ho scritto è quello del 29 gennaio del 1919, e il volume è il dodicesimo. Qui Gesù parla degli anelli di congiunzione tra il divin volere e l'uomo, e dice, ora il primo anello che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità. La mia umanità immedesimata con la mia divinità nuotava nel volere eterno ed andava rintracciando tutti gli atti delle creature per farli suoi, attenzione, e dare al Padre da parte delle creature una gloria divina e portare a tutti gli atti delle creature il valore, l'amore, il bacio del volere eterno. In questo ambiente del volere eterno, io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti. Attenzione, gli stessi atti buoni, malamente fatti, ed io facevo i non fatti e li facevo i malamente fatti. Attenzione, questo è un passaggio assolutamente cruciale per capire sia ciò che Gesù ha operato per noi, sia anche un'anima che poi entra nel divino volere è chiamata ad operare nell'appunto divina volontà perché farà rifare le stesse cose che ha fatto Gesù sulla terra. Allora, mi spiego. La redenzione, quindi Gesù viene sulla terra per salvare l'uomo dal peccato, non come dice il nome stesso Gesù, quindi per compiere la redenzione. Come ha redento l'umanità nostro Signore Gesù Cristo? Il problema era l'esistenza del peccato, cioè il peccato è ciò che ha prodotto nel mondo tutti i tipi di male. Dal più grave, la morte, andiamo in ordine discendente, alle sofferenze, alle tribolazioni, alle angosce, ai cataclismi naturali, ai chifoni, alle alluvioni, ai terremoti, a tutto il male che noi vediamo in questo mondo, la violenza, gli scannamenti, le stragi, tutto quello che volete. L'unico fattore di produzione, con l'unica industria, ecco, che è, cioè il copyright del male, il brevetto, è il peccato. Quindi, il peccato che cos'è? Non è altro che un atto della volontà umana, che si dissocia e si distacca dalla Divina Volontà al punto da andargli contro. Ok? Come si poteva fare per redimere? E cosa ha fatto principalmente Gesù? Ha preso tutto il male prodotto dal peccato, morte compresa, perché Gesù è morto, oltre ad aver sofferto, d'accordo? E, perché ha preso il male, senza lui essere un cooperante della fabbrica di produzione, Gesù non ha commesso peccato, d'accordo? E quindi che significa? È il senza peccato, come uomo, d'accordo? Ha preso su di sé, come uomo e come Dio, tutte le conseguenze del male, è risorto, quindi le ha distrutte, e quindi avendo distrutto tutto il male prodotto dal peccato, è in grado di liberare l'uomo anche da ciò che il male lo produce, che è il peccato, ottenendo il perdono dei peccati, perché tutto il male generato dal peccato l'ha preso su di sé. Ecco perché le sofferenze di Gesù, cioè Gesù ha sofferto nella sua vita terrena, e questo i santi lo hanno per duemila anni, e in grado eroico, tutti imitato, hanno imitato che cosa? L'operato della Santissima Umanità di Gesù, che se uno la studia con attenzione, si è caricata nella vita terrena di croci su croci, non soltanto dal Veneri Santo in poi, ma anche prima, d'accordo? Dai prodromi, nasce in una stalla, anche se lui era un bambino, quindi sotto il segno del rifiuto, al freddo e al gelo, come poeticamente canta nel bellissimo canto di Natale, Sant'Alfonso Merede di Cuore, la fuga in Egitto, perché Rode voleva ammazzarlo, i sette anni di esilio in Egitto, i misteri della vita nascosta, in cui il figlio di Dio fa l'umile lavoro di fare gname, eccetera, sta sottomesso a due esseri umani, per quanto santi, come Maria e Giuseppe, eccetera, e poi le fatiche apostoliche, quindi la missione itinerante, lo stare fuori casa, non avere fissa dimora, della volta aveva dormito per terra, il 40 giorni di digiuno, la fate tante Gesù, insomma, non potremmo neanche enumerarle, questo è sempre stato abbastanza chiaro, perché il fiat redimente, una volta compiuto, poi Gesù l'ha fatto capire bene, quindi, e questo è anche il motivo per cui noi, e tutti, facciamo qualche penitenza, facciamo qualche digiuno, ci sacrifichiamo, come chiede la Madonna, tante volte per i peccatori, perché? perché per distruggere il male, nelle sue origini, bisogna farne proprio le conseguenze, prenderle su di sé, come ha fatto Gesù, e offrirle con amore e per amore, in modo tale che si distruggano le conseguenze, senza cooperare alla causa, e quindi possa essere liberato, anche chi coopera alla causa, questo è stato proprio in due parole, l'opera della redenzione, ora però qui Gesù sta dicendo un'altra cosa, quindi Gesù non ha fatto solo questo, nella vita terrena, questo lo sapevamo già, questo che ho fatto la sintesi finale, ha fatto anche alcune cose che non sapevamo, cioè, ci fa vedere, cosa la divinità operava nella sua umanità, in continuazione, capite? a prescindere, dalle sole sofferenze, perché l'operato di Gesù, non si è limitato a distruggere il male, ma ha anche, e questo non si sapeva, a rifare tutti gli atti di tutti gli uomini, in maniera divina, perché il dono della divina volontà, Adamo l'ha perso col peccato originale, e da quel momento in poi, tutti gli atti umani, tutti, compresi i più santi, compresi quelli dei santi, hanno, diciamo così, perso la connessione con la divina volontà, e quindi, quando anche fossero, l'abbiamo già visto, questi atti belli, virtuosi, ottimi, sono, uno, sempre atti umani, quindi, limitati, e finiti, e terzo, ordinariamente, abbiamo visto anche questo, sempre imperfetti, d'accordo, e quindi, non di grande valore al cospetto di Dio, cioè, noi possiamo vedere anche un grande santo, che fa delle cose, che se noi le guardiamoci, ne restiamo ammirati, ma agli occhi di Dio, quelle cose, non sono in realtà così grandi, come appaiono, perché comunque sono atti propri dell'uomo, Dio non aveva questa idea, per la razza umana, perché Dio aveva, per la razza umana, come abbiamo visto, l'idea di, non solo riempirlo di grazia santificante, di scienza infusa, e quindi di doni preternaturali, dell'immortalità, e della impassibilità della sofferenza, niente con coficienza, eccetera, ma farlo agire, sempre in modo divino, quindi, tutti gli atti compiuti dall'uomo, in unione con il dono della divina volontà, sarebbero stati, non semplicemente atti umani, anche meritori, ma comunque limitati, finiti e imperfetti, ma atti divini, e quindi infiniti, eterni e immensi, quindi apportatori di una tale gloria a Dio, che non lo possiamo neanche immaginare, produttori di tali immensi e straordinari, gaudi e felicità, anche in questo mondo, non possiamo neanche immaginare, produttori e forieri, e di beni tali e tanto grandi, che non possiamo neanche immaginarli, ora, da dopo il peccato originale, la razza umana, non sa più neanche che cosa significa, compiere un atto nel divino volere, ma Gesù, in quanto figlio di Dio, fatto uomo, così come la divina Maria, per sua libera adesione, fin dal momento in cui fu concepita, viveva l'unione con la divina volontà, quindi era troppo poco che si limitasse a distruggere le conseguenze del male commesso dall'uomo col peccato, soffrendo, cosa, ripeto, che abbiamo sempre saputo, lo sappiamo chiarissimamente, dalla rivelazione pubblica, ma come dice qui, attenzione, rileggo dopo tutti questi preamboli, la mia umanità, immedesimata con la mia divinità, attenzione, perché Gesù è vero Dio, è vero uomo, nuotava nel volere eterno, e cosa faceva nel volere eterno? Ed andava, attenzione, rintracciando, ascoltate bene, tutti gli atti delle creature per farli suoi, cioè, voi sapete che nella divina volontà, la divina volontà è, come Dio, eterna, quindi non conosce confini di spazio e di tempo, quindi nella divina volontà, tutti gli atti compiuti da tutti quanti gli uomini, da Adamo, fino all'ultimo uomo che sarà sul pianeta Terra, stanno come presenti in atto, tutti, qui è chiaro, figlioli miei cari, che qui stiamo entrando nel mondo di Dio, quindi, dice, ma, non è alla nostra portata, immaginarci, d'accordo, come in un atto unico, possano essere presenti tutti quanti gli atti della storia, perché, come dice Sant'Agostino, si comprendis, non est Deus, se potessimo immaginarci, bene, una cosa di questo genere, vorrebbe dire che saremo Dio anche noi, che vivremo in una dimensione divina, possiamo però, farcene una vaga idea, allora, cosa vuol dire che Gesù rintraccia, tutti gli atti delle creature, per farli suoi, cioè, lui è unito, ad una vera umanità, creata, nazione della Vergine Maria, la Santissima Umanità di Gesù, d'accordo, quindi può agire, come uomo, d'accordo, unito però al divino volere, e unito anche alla natura divina, allora cosa fa, prende tutti quanti questi atti, da tutti, degli uomini, per farli suoi, cioè, li prende come suoi, e, dà al Padre, facendo quegli atti suoi, una gloria divina, e portare, a tutti gli atti, quindi, prende gli atti, non i peccati, perché gli uomini, non fanno soltanto peccati, dopo lo spiega, gli uomini fanno anche atti indifferenti, per esempio, respirano, d'accordo, camminano, non è detto che camminino, semplicemente, soltanto per andare a spaccare la faccia a qualcuno, no, uno può camminare per farsi una passeggiata, d'accordo, dormono, e, guardano, non è detto che uno debba fare uno sguardo impuro, cioè, io anche adesso sto facendo questa trasmissione, sto davanti al computer, sto leggendo gli scritti, quindi guardo lo schermo, leggo lo scritto, questo è un atto da tutto indifferente, insomma, quindi, certo, sto leggendo una cosa buona, si spera che stia facendo una cosa buona, ma, capite, cioè, l'atto del guardare, io lo faccio, ma dipende dal capolavoro che Dio ha fatto con l'occhio umano, è chiaro che la mia volontà adesso sta decidendo di guardare, e di leggere quello che sto leggendo, d'accordo, però, perché gli occhi mi rispondono, se qualcuno mi cavassa gli occhi, non potrei più leggere, però anche questi atti, sono comunque atti umani in senso ampio, d'accordo, e tutti gli uomini li hanno fatti, ora, vivere nel divin volere, cioè, avere la connessione H24, quindi la fusione con la divina volontà, vuol dire che anche questi atti, indifferenti, sono e possono, e debbono, essere, atti divini, cioè, la divinizzazione del sonno, la divinizzazione del respirare, la divinizzazione del guardare, la divinizzazione del battito cardiaco, la divinizzazione del battito delle ciglia, la divinizzazione della circolazione sanguigna, la divinizzazione dei movimenti degli arti, voi sapete, quando io muovo una mano, che faccio, cioè, se è un mare di roba che si muove, i nervi, i muscoli, la perfezione assoluta del corpo umano, tutto questo, può e deve essere nobilitato in modo divino, allora Gesù cosa ha fatto? è entrato nel divinvolere, si è unito, a tutti gli uomini, e ha rifatto gli stessi atti loro in maniera vicaria, quindi perché? facendo dal posto loro, d'accordo, per dare al padre quella gloria perfetta, e, quell'amore, e quel ti amo, che gli uomini non gli danno, in parte perché hanno perso la connessione, il dono del divinvolere, e in parte perché ci pensano proprio, ma Gesù lo ha rifatto, ok? e al tempo stesso, ha portato, agli atti delle creature, il bacio del volere eterno e il suo amore, allora, voi ci avete mai pensato? ecco, io adesso per esempio sto parlando, no? si spera, speriamo non avvanvera, ma, noi ci abbiamo mai pensato che, l'atto del parlare è un ti amo di Dio? io attraverso la parola, comunico, mi relaziono, no? trasmetto, le cose che penso, noi diamo sempre tutto per scontato, ci abbiamo mai pensato che, le corde vocali, la facoltà di parlare, che dipende dall'intelletto che Dio mi ha dato, insomma, no? non sono ti amo di Dio, ci abbiamo mai pensato? io racconto, da qualche parte c'è stata una catechesi dove io ho raccontato la mia esperienza di vita che mi ha portato al sacerdozio, no? quando il mio caro amico Francesco visse santamente, insomma, la sua terrificante malattia che poi lo portò all'incontro con sorella morte, però vedete, negli ultimi due mesi della sua vita terrena, quando io stavo tutti i giorni con un altro amico, e poi è diventato frate anche lui, in ospedale ad assistere Francesco, e te lo vedevo buttato su quel letto, quasi immobilizzato, con un buco sul petto, che non so quanto a una casa, e c'aveva un catetere enorme per tutte le flebo che doveva farsi, c'aveva il catetere addosso anche altrove, cercate di capire, immobilizzato su un letto, io vi confesso che in quei giorni, una mattina, lo dico candidissimamente, mi alzai per andare in bagno, come si era tutto davanti alle mattine, uno si era la sveglia, si sa la prima azione della croce e tante altre cose, ma poi può succedere che la prima cosa urgente da fare sia andare al bagno, e io una mattina dissi queste testuali parole, ti ringrazio signore, che io posso andare al bagno con le gambe mie, perché Francesco non c'è a stammi che andare al bagno con le gambe sue, Francesco c'è al catetere, se non manco muove, cioè, quale uomo pensa mai queste cose? Nessuno, quasi nessuno, cioè, capite che è tranquillamente possibile che un essere umano campo a 80-85 anni, indiscreta salute, tutto sommato, e non ha mai una volta una, che dico una, detto a Dio, ti ringrazio, che mi hai mantenuto in buona salute, una volta in tutta la vita, eppure questa buona salute è tutto dono e grazia di Dio, l'uomo non è consapevole, ma l'uomo non è consapevole che è circondato da continui ti amo di Dio, in sé e fuori di sé, questo vi preannuncio subito, è una delle cose più belle che si scopre nel mondo del divino volere, cioè di come la volontà di Dio sia veramente amore, e come di questo amore che noi non sappiamo conoscere e riconoscere, Dio ci abbia letteralmente circondato e inondato, Luisa di questo ne ebbe anche esperienza personale e diretta straordinaria nei modi e nelle forme e soprannaturale, cioè Gesù Dio lo fece sentire, vivere in diretta quanto amore aveva per lei, ma non era un amore esclusivo per lei, quanto amore ha Gesù per ogni singola anima, soltanto che Luisa era nelle disposizioni interiori di poterlo accogliere, riconoscere e valorizzare a differenza di noi. Qual è il contenuto di questi atti che Gesù ha fatto? Vedete qui non si tratta di soffrire per togliere il male, possono essere atti semplicemente interiori, rileggo, in questo ambiente del volore eterno, io vedevo tutti gli atti delle creature possibili a farsi e non fatti, allora la prima cosa, gli atti possibili a farsi e non fatti, per esempio, per esempio, tutte le omissioni che ho appena adesso enunciato e che riguardano i grazie non detti a Dio. Subito, no? Quanti grazie non detti a Dio sono stati nel corso della storia da parte delle creature? Pensate agli atei, i miscredenti, tutte queste cose qui. Quindi, nel volere eterno, Gesù non vedeva soltanto tutti gli atti degli uomini realmente compiuti, ma vedeva anche quelli che avrebbero potuto essere compiuti, questi li contemplavo con quella che si chiama tecnicamente la scienza di intelligenza, non la scienza di visione, per mezzo del quale si vedono le cose come sono, furono e saranno, e che cosa faceva? Allora, Gesù ha ringraziato il padre per tutti gli uomini che non l'hanno fatto e in tutte quelle singole circostanze di vita di ciascun membro della razza umana in cui ognuno di essi avrebbe dovuto dire ti ringrazio padre, mi seguite? E questo non soltanto per i grazie, ma per le molte altre cose buone, sia nei confronti di Dio che nei confronti del prossimo che avremmo potuto o dovuto fare e non l'abbiamo fatto. cioè, voi dovete capire che in questo modo è troppo poco se Gesù avesse presentato al padre solo la riparazione per il male compiuto, quindi la redenzione, e il bene non fatto anche quello non strettamente dovuto, no? Pensiamo per esempio alla Madonna, la Madonna la Divina Maria che ha vissuto in stato di fusione con la Divina Volontà attenzione non ha semplicemente sempre operato il bene ma io dico sempre e lei non me ne vorrà se uso questo termine la Madonna guidava l'ultimo modello della Ferrari con il Pierino Santo e Benedetto con cui schiaccia la testa al diavolo calcato sull'acceleratore andava sempre al massimo cioè la Madonna non si è limitata a fare sempre il bene a stare lontana dal peccato ma la Madonna faceva il bene al massimo grado possibile d'accordo? sempre sempre altro che le canzoni dei cantautori laici che dicevano vado al massimo in tutta l'altri set la Madonna è andata veramente al massimo ma proprio al massimo cioè capite cioè l'unica creatura che ha dato a Dio il massimo in tutto e per tutto è stata la Madonna capite? e ovviamente Gesù non è una pura creatura è stato Gesù e anche la Madonna ha rifatto tutti questi gli atti tutti questi atti degli esseri umani in primis quindi le omissioni poi Gesù prosegue vedevo primo tutti gli atti di delegatura possibili da farsi e non fatti secondo gli stessi atti buoni malamente fatti cioè gli atti imperfetti o addirittura fatti male faccio un esempio no? mi ferma un vedo un poveraccio per strada un poveraccio veramente poveraccio supponiamo che viene a un a un semaforo uno ogni tanto ce ne va qualcuno poverino che non c'ha un braccio cioè sapete che non c'ha un braccio questo qui d'accordo quindi certo che se dai soldi nel strano potrebbe pure andare a comprare sigarette però insomma sta senza un braccio sta quindi è il caso di dargli qualche cosa in quelle circostanze no? ecco però posso prendere sti due posso prendere ecco gli do gli sbatto in faccia con apro il finestrino con la faccia sdegnata gli do 50 centesimi sì 50 centesimi glielo ho dati le lemosi non l'ho fatto d'accordo ma è diverso se io prendo gli do 10 euro col sorriso sulle labbra e glieli accompagno con un bel sorriso e magari gli dico Dio ti benedica fratello d'accordo è evidente che questo secondo atto è molto più perfetto rispetto al primo no? sì le lemosi hanno fatto lo stesso ma stiamo su gradi completamente differenti allora molti atti degli esseri umani anche buoni sì sono buoni ma sono fatti malamente capite io posso fare non lo so per dire io da prete facciamo un'imperfezione posso voler fare una predica e avere come dire la sottile tentazione di dire ah faccio una bella catechesica faccio una bella predica mi diranno tutti quanto sei bravo è chiaro che la presenza dell'intenzione di questo genere la macchia quest'azione non è che per quello non si deve fare più d'accordo però un'azione che potrebbe essere buona viziata da questa intenzione perde valore agli occhi di Dio peggio ancora se dovessi fare una cosa di questo genere con rivalità e con invidia quindi ah questo ha fatto questa predica così ah mo la faccio io che la faccio più bella per dire no è chiaro che se è una bella predica costruttiva cioè rimane una bella predica costruttiva nessuno la sa questa cosa ma Dio la sa e quindi questa predica agli occhi di Dio scende subito di valore non diventa un peccato perché un'imperfezione non può trasformare una cosa buona non peccato ma diventa una cosa molto molto piccola ai suoi occhi allora oggi cosa abbiamo scoperto attenzione questo è un passaggio fondamentalissimo che nei 33 anni della vita terrena Gesù era occupato nel rifare come uomo tutti gli atti buoni possibili o doverosi non fatti dall'uomo e questo è possibile farlo nella divina volontà attraverso cui si raggiungono tutti quanti gli uomini e si portano a loro gli atti buoni fatti e si prendono i loro atti cattivi si uniscono ai propri e si rettificano e trasformano è un'operazione interiore capite fatta dal verbo eterno e al tempo stesso tutti quelli malamente fatti cioè imperfetti sono stati da Gesù rettificati e perfezionati e presentati a Dio con perfezione di intenzione voi capite che tutti questi atti hanno portato un beneficio oggettivo immenso alla razza umana ok questo è fondamentalissimo questo qui ora possiamo andare avanti step successivo ora questi atti non fatti e fatti solo da me quindi le omissioni e gli atti malamente fatti e perfezionati rifacendoli dal verbo di Dio attenzione a questo altro termine tecnico se non si capiscono gli scritti stanno tutti sospesi nel mio volere ed aspetto le creature che vengano a vivere nel mio volere e che ripetano nella mia volontà ciò che feci io attenzione a questo punto non è che è cruciale di più perché ci fa comprendere come dire il differenziale cosa vuol dire vivere nel divin volere che è più che fare la volontà divina allora la volontà divina è perfezione assoluta d'accordo un atto compiuto nella volontà divina è l'unico atto degno di Dio perché Dio può avere come degni di sé solo atti divini perché è Dio capite capite allora se io presento a Dio atti buoni ma compiuti con la mia sola volontà umana pur buona sono atti umani buoni ma sono piccoli e sono al suo cospetto se io presento a Dio atti divini la gloria è massima e Dio quindi viene amato come va amato viene adorato come va adorato viene glorificato come viene glorificato eccetera 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 ma da un punto di vista soggettivo parla di questi atti sospesi allora che significa che tutti questi atti sono a disposizione di chi li vada a prendere come si fa ad andarli a prendere ed ecco qui stiamo già entrando nella terza fase quindi come si vive nella divina volontà se io prima di iniziare questa catechesi dico viene divina volontà nel mio parlare cosa cosa significa questa operazione che dobbiamo cominciare a familiarizzarci significa che tutte le prediche che Gesù ha fatto nella sua vita terrena che sono prediche perfette e compiute in unione con il divino volere io le faccio mie e quindi questa predica che potrebbe avere qualche imperfezione intrinseca io la unisco alle prediche di Gesù perché queste imperfezioni siano neutralizzate d'accordo e questo gesto che sto facendo possa avere davanti a Dio valore eterno immenso e infinito una cosa di questo genere ripeto a Dio dalla massima gloria possibile alla creatura non dico che scatti in avanti che fa fare nella santità e come il peccato produce montagna di immondizie di male di morte così un atto di questo genere che non è solo buono ma è divino produce una montagna di luce di sole di vita e di bene ne sentiremo poi le espressioni che Gesù usa ogni atto compiuto nel volere divino è come un piccolo sole che si accende sul pianeta terra da un punto di vista oggettivo capite? allora la vita nella divina volontà consiste anche nell'imparare a rifare e riprendere a rifare gli atti e a prendere gli atti che Gesù ha compiuto e farli nostri e conciò beneficiare di ciò che Gesù ha fatto per noi e al tempo stesso però moltiplicarli questo è un termine che sentiremo dire nella divina volontà perché quell'atto fatto da Gesù e da me fatto mio riacquista attraverso il mio farlo mio la sua stessa efficacia interna immensa infinita che ridonda non soltanto a bene mio ma a bene di tutte le altre creature e quindi ripara il Signore per tutti dà gloria a Dio per tutti d'accordo lo appunto lo glorifica e concorre al compimento del creato come luogo di massima glorificazione della bontà dell'onipotenza e della volontà di Dio quindi se leggiamo questo periodo alla luce di questa spiegazione che ho cercato di dare che spero di essere chiara ora questi atti non fatti e fatti solo da me stanno tutti sospesi nel mio volere ed aspetto le creature che vengano a vivere nel mio volere e che ripetano nella mia volontà ciò che feci io ora qui scende poi parlando subito di Luisa Luisa Piccarreta chi è e che cosa ha fatto Luisa Piccarreta era un'anima semplicissima ha trascorso una vita orizzontale e non troppo neanche troppo orizzontale perché lei orizzontale non poteva mettersi quasi mai perché è una strana uno strano fenomeno di irrigidimento corporeo che non hanno mai scientificamente spiegato per cui lei stava seduta a 90 gradi insomma le gambe e il bacino stavano più o meno così ma non si riusciva a stendere completamente aveva questo stato anche se si vedono le foto del funerale anche il gioco del funerale stava così di rigidità ecco poi le passava la rigidità con la benedizione del sacerdote ma lei trascorreva comunque il tempo a letto in quella posizione d'accordo? e questa entrata nel divino volere che cosa ha fatto? tutte operazioni interiori poi rivedremo a suo tempo cioè è andata a riprendere tutti gli atti di Gesù ma è anche andata a cercare tutte le operazioni del fiat i cosiddetti giri nella creazione nella redenzione e dovunque per fare questi esercizi interiori del compimento di atti nel divino volere e così dare a Dio la massima gloria possibile ma al tempo stesso concorrere al bene sommo di tutta l'umanità e alla riparazione di tutti i peccati queste tre cose perché ci familiarizziamo la massima glorificazione del padre la riparazione dei peccati e la salvezza delle anime quindi concorrere al bene dell'umanità erano i tre fini con cui Gesù compiva tutte le sue azioni interne ed esterne tutte quindi capite entrando nel mondo del divino volere e imparando ad agire in questo modo che si impara piano piano si fanno proprio le intenzioni di Gesù quindi capite che la vita meramente umana assume una tale elevazione una tale nobilitazione da essere veramente chiamabile e da chiamare non più umana ma divina cioè noi diventiamo capite bene in che senso una sorta di piccoli dei sulla terra realizzando il disegno di Dio sull'uomo che è non soltanto dargli tante belle cose ma dargli se stesso e la sua stessa forza e capacità operativa che è il massimo che si possa avere e questo capite fa subito comprendere il disegno di amore immenso che Dio aveva perché questo modo di vivere porta una felicità tale che solo chi ne ha fatto esperienza se la può immaginare quindi quando per esempio pensiamo alla Madonna qualche giorno fa l'abbiamo contemplata addolorata no quindi queste due dimensioni quindi del dover compiere la redenzione e quindi del dolore ma al tempo stesso il vivere nel divino volere e quindi l'immersione in un mare di gioia e di amore erano compresenti nella vita di Gesù e di Maria quindi abbiamo contemplato la Madonna addolorata qualche giorno fa si ha sofferto tanto la Divina Maria talmente immensamente sotto la croce come nessun'altra creatura mai ha sofferto e mai soffrirà altra domanda era felice o no la Divina Maria e quanto la risposta è non era felice era felicissima e quanto come nessun'altra creatura mai stata e mai sarà perché lei era perfettamente immersa nei divini voleri e anche la santissima umanità di Gesù sulla terra per quanto fosse il redentore quindi dovesse continuamente sobbarcarsi la croce il peso il carico le conseguenze del peccato immersa però come erano di non volere era anche una vita pienamente felice gioiosa ecco perché per noi figli di Dio la sofferenza non è la negazione della felicità la negazione della felicità la tristezza non la sofferenza e la tristezza è quello stato interiore che sapete di che cosa è figlio di tutte le volte che noi facciamo la nostra volontà anche in cose decidi quando però quella volontà non corrisponde ai divini voleri allora proseguo la lettura dovrebbe essere più chiara a questo punto perciò quindi abbiamo visto il primo anello di congiunzione tra e che congiunse il vero vivere nel mio volere fu la mia umanità poi c'è il secondo anello di congiunzione perciò ho scelto te come secondo anello di congiunzione con la mia umanità facendosi uno solo col mio anello vivendo nel mio volere ripetendo attenzione al termine ripetendo tu i miei stessi atti quindi Luisa nella sua vita terrena ha ripetuto e rifatto tutti gli atti che Gesù faceva nella vita terrena propria altrimenti da questo lato il mio amore rimarrebbe senza sfogo senza gloria da parte delle creature di ciò che operava la mia divinità nella mia umanità e senza il perfetto scopo della creazione che deve racchiudersi e perfezionarsi nel mio volere perché Dio vuole che gli atti si facciano in questo modo perché Dio vuole che il battito del mio cuore sia fatto nel divin volere e non ci vuole un granché per fare questo qui è semplicemente un atto diciamo così volontario che si fa materialmente e lo posso fare come atto attuale poi vedremo queste esigenzioni viene divina volontaria nel battito del mio cuore oppure posso farlo in quella stupenda preghiera che poi vedremo che si fa al mattino tutti i giorni che si chiama atto preventivo e che serve in una sola preghiera a portare nel divin volere tutte le azioni possibili che faremo durante il corso della giornata quindi ripetendo due miei stessi atti altrimenti da questo lato il mio amore rimarrebbe senza sfogo senza gloria da parte delle creature di ciò che operava la mia divinità nella mia umanità e senza il perfetto attenzione scopo della creazione che deve racchiudersi e perfezionarsi del mio volere cioè Dio vuole che la creazione gli renda una gloria assolutamente perfetta e la gloria assolutamente perfetta Dio la trova solo nella perfezione assoluta che è il suo volere quindi solo quando le anime impareranno a vivere nel divin volere portando le proprie vite ma anche tutta la creazione che deve essere portata a Dio nel divin volere da noi perché non ha la capacità di farlo in se stessa avverrà il pieno il perfetto compimento il perfetto scopo della creazione che è stata creata come la Chiesa ha sempre insegnato per la gloria di Dio sarebbe come se avessi sparso tutto il mio sangue sofferto tanto e nessuno l'avesse saputo chi mi avrebbe amato che cuore ne resterebbe scosso nessuno e quindi in nessuno avrei avuto i miei frutti la gloria della redenzione questi passaggi sono fondamentalissimi adesso andiamo a chiudere lo scritto di oggi perché poi prima di passare al Fiat Santificante ne avremo un altro vi annuncio che avremo la prossima settimana sempre fondativo a mio avviso e lui figlia mia dovevo prima far conoscere ciò che fece soffrire la mia umanità al di fuori per poter disporre le anime a conoscere ciò che fece la mia divinità al di dentro attenzione far conoscere ciò che fece soffrire la mia umanità al di fuori è quello che abbiamo sempre saputo sono le sofferenze che Gesù ha patito per la nostra salvezza dipendenti dal fatto che doveva distruggere il peccato ecco la cosa nuova che qui Gesù fa vedere è ciò che faceva la divinità al di dentro cioè che Gesù stesse a girare nel divino volere andare a prendere tutti quanti gli atti degli esseri umani tutti di ogni singola specie particolare tutti i pensieri tutte le parole tutte le opere tutte le omissioni e vederli e rifarli in maniera perfetta o fare ciò che gli uomini non avevano potuto o dovuto fare non lo sapevamo forse non ce neanche immaginavamo d'accordo è chiaro che per chi ha studiato un po' di teologia e capisce qualche cosa cioè uno avrebbe potuto fare un volo pindarico avrebbe pure in teoria potuto in qualche modo di arrivarci ma è assolutamente improbabile ecco allora dice perché non avete manifestato prima Gesù dice prima dovevo far conoscere ciò che fece soffrire la mia divinità al di fuori e dopo ciò che operava la mia divinità dal di dentro perché questo perché la creatura continua Gesù è incapace di comprendere tutto insieme il mio operato perciò vado poco a poco manifestandomi questo principio della gradualità della liberazione si trova anche nella Dei Verbum è sempre stato insegnato dalla Chiesa e dai dottori della Chiesa e dai Santi e dalle persone autorevoli della Chiesa Dio agisce in maniera graduale ok molti si chiedono perché per esempio la figura della Madonna è venuta ad una grande ribalta negli ultimi due secoli l'ho scritto un libretto che è pubblicato dalla MIMEP si chiama Le Apparizioni Mariane che contiene le principali apparizioni riconosciute dalla Chiesa eccetto Guadalupe che è di qualche secolo fa si collocano tutte negli ultimi due secoli ma com'è? ma che prima la Madonna non era così grande perché non si è manifestata prima? c'è un motivo c'è c'è un motivo e si trova nel trattato della vera devozione d'accordo? sono due motivi primo la Madonna chiese di rimanere nascosta e questo in parte il Signore gli era concesso almeno per un certo periodo di tempo per la sua amiltà secondo perché prima di manifestare la Divina Maria bisognava che gli uomini e questo hanno fatto molta fatica io sto scrivendo degli articoli sul settimane di Padre Pia su tutte le resi cristologiche dei primi secoli che sono state una devastazione fino all'anno 1000 è stata una devastazione allora dice era prima necessario che fosse ben conosciuta e ben compresa la figura di Cristo questo perché? perché la Madonna è talmente grande e talmente bella che una sua eventuale rivelazione e manifestazione precoce avrebbe fatto più male che bene perché? perché qualcuno aveva potuto pensare che era una mezzadea e che in qualche modo equiparava a Cristo e che era al suo stesso piano al suo stesso livello San Luigi riporta un'espressione attribuita a San Dionigi l'eropagita che debba una visione della Madonna dice era così bella e piena di luce e di gloria riporta che se la fede non mi avesse detto il contrario io l'avrei scambiata per una dea perché è troppo capito? allora se tu rivelassi la Madonna subito correresti il pericolo cioè Dio non vuole che la Madonna sia considerata una dea perché non lo è perché la Madonna è divina ma è una creatura dire che è divina vuol dire che è unita la divina volontà che è piena di grazia ma nel suo essere creaturale capite? è Gesù che non è una mera creatura come diceva invece Ario e come in tanti modi hanno attaccato sto dogma dell'incarnazione in maniera più raffinata incredibili cioè oh fino al concilio del Nicea II sono stati a cercare di distruggere sottilmente satanicamente insomma quindi il primo millennio siamo stati flagellati dalle lesie cristologiche ecco quindi Dio fa le cose intelligentemente quindi se una cosa se ha fatto uscire scendere in campo questa è un'espressione la Madonna ad un certo momento della storia c'è un motivo d'accordo due sono questi poi ce ne saranno sicuramente molti molti altri se non ha subito rivelato l'agire di Gesù come agire nella divina volontà e come nobilitante l'uomo a questi livelli e come patrimonio rimesso a disposizione dell'uomo dopo la caduta di Adamo era perché non era ora perché prima bisognava capire bene e mica tutti l'hanno capito bene ma manco oggi che ancora oggi qualcuno non ci crede che Gesù Cristo è l'unico salvatore dell'uomo d'accordo e a volte c'è qualche mattacchione che anche in ambienti di chiesa insomma va cianciando sciocchezze che in qualche modo negano questa verità fondamentale che Gesù Cristo è l'unico salvatore dell'uomo d'accordo quindi la prima cosa che bisognava fare era conoscere bene quello che aveva fatto per la nostra salvezza e quindi quello che aveva sofferto la sua umanità per noi e la sua vera divinità dopo c'era quest'altro d'accordo e Gesù prosegue a Luisa ha detto queste cose e dopo Luisa che succede? ultima parte dello scritto poi dal tuo anello di congiunzione con me saranno congiunti gli altri anelli delle creature quindi si apre da quel momento la porta d'ingresso nella divina volontà e avrò uno stuolo di anime che vivendo nel mio volere rifaranno tutti gli atti delle creature come ha fatto Gesù adesso faccio un esempio a farvi capire e avrò la gloria di tanti atti sospesi fatti solo da me anche dalle creature e queste di tutte le classi vergine sacerdoti secolari a seconda dell'ufficio non più umanamente opereranno ma penetrando nel mio volere i loro atti si moltiplicheranno per tutti in modo divino e avrò la gloria divina da parte delle creature di tanti sacramenti ricevuti e amministrati in modo umano altri profanati altri infangati dall'interesse di tante opere buone in cui resto più disonorato che onorato lo sospiro tanto questo tempo e tu prega sospiralo con me e non spostare il torneo di congiunzione col mio e cominciamo tu per la prima faccio un esempio per concludere questa cosa qui perché gli esempi fanno sempre chiarire cosa vuol dire che le creature stesse rifanno gli atti fatti da Gesù faccio un esempio qui parla di sacramenti amministrati ricevuti in modo umano profanati e infangati dall'interesse allora vado a vedere cioè partecipo a una messa e io vedo che lì c'è una persona che conosco bene che so magari essere in stato di peccato mortale con certezza magari perché sempre il solito famoso divorziato risposato pia si alza per fare la comunione che facciamo quello è un fatto gravissimo allora un atto di quel genere dobbiamo capire adesso a prescindere dal male che fa a chi lo compie e che dipende da quanto è consapevole della gravità di questo atto ma quel fatto lì fa un male enorme perché è una profanazione oggettiva dell'eucaristia come si distrugge quel male come questa è la terapia allora quel male si distrugge così io dico divina volontà mi unisco a te metto il mio ti amo sulla bocca sacrileca di questo mio fratello di questa mia sorella per riparare la comunione sacrileca che sta facendo e prendo la tua volontà d'accordo e la comunione che hai fatto tu nell'ultima cena e la offro al padre in riparazione di questo e di tutte quante le comunioni malamente fatte in maniera sacrileca capito ancora vedo una persona che fa una cosa cattiva dice una brutta parola bestemmia mi manda un insulto mi manda a quel paese come ci si interfaccia in questo modo nella divina volontà ecco quello mi manda a quel paese io dico viene divina volontà giro divina volontà in te e metto il mio ti amo d'accordo su quella bocca perché perché la tua grazia possa portargli la luce per comprendere la gravità del gesto che ha fatto non tanto l'offesa ma fatta a me che mi merito di questa e anche di peggio e perché attraverso tutte quante le lodi che Gesù ha pronunciato sul pianeta terra lui insieme alla sua santa madre questa brutta cosa che ha detto sia come annegata offuscata e riparata dentro questo mondo capito cioè in questo modo si opera in maniera ultra divina e ultra efficace non soltanto senza creare nessun tipo di danno e senza fare guai in giro ma senza nessuna possibilità di supervio perché nessuno vede nulla senza strepito senza rumore e nella maniera assolutamente più perfetta che si possa fare questi discorsi chiaramente li riprenderemo e li approfondiremo quando parleremo del fiat santificante cioè del modo con cui ciò che Gesù e Maria hanno fatto quando erano sulla terra è a nostra disposizione per poter essere da noi preso e fatto nostro perché questo come vedremo significherà vivere nella divina volontà e questo è l'aspetto nuovo che le liberazioni sulla divina volontà portano e che va conosciuto approfondito e poi con l'aiuto di Dio vissuto vi do con questo appuntamento la prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria Grazie a tutti